Bentornati in una nuova puntata di Meglio di Niente, il podcast di Clarine The Mirror, che sarei io, che potete ascoltare gratuitamente qui su YouTube oppure su Spotify. Messaggio per chi mi ascolta da Spotify, trovate molti più episodi su YouTube, quindi fate un salto anche di là. L'argomento mi è venuto in mente con una ragazza su Instagram, perché io avevo fatto un video su TikTok e quindi da lì abbiamo iniziato il discorso e l'oggetto del discorso è l'andare a vivere da soli. Mi sono detta dopo un po', ma perché non farci una puntata del podcast? Perché io sono andata ad abitare da sola molto giovane, quindi in realtà ho un po' di roba da raccontare. Perciò mi sono detta, secondo me viene fuori una puntata carina, o almeno si trattano degli argomenti che possono essere utili a persone che stanno andando a vivere da sole, pensano di andare a vivere da sole o andranno a vivere da sole. Prima però, volevo anche consigliarti la mia newsletter che puoi leggere sempre gratuitamente inserendo la tua mail nel link che trovi nell'info box. Parla di argomenti diversi ogni settimana, quindi, perché non dargli una possibilità? Si chiama Il Nulla Cosmico. Partiamo con questa puntata. Inizialmente sono andata a vivere da sola, semplicemente perché dovevo andare a fare l'università. In realtà non ero propriamente sola, perché sono andata a vivere con una coinquilina, che in realtà era già una mia cara amica. Quindi l'approccio dal lasciare casa per un'altra casa non è stato poi così drammatico, anche se in realtà io praticamente non l'ho vissuto. Quando sono andata all'università, infatti, non ho vissuto questo distacco da casa mia, anche perché io tutti i weekend tornavo a Mondovì, che è vicino a Torino, quindi non sentivo questa distanza da casa, anzi, mi sembrava quasi di andare in vacanza con la mia amica, di starci cinque giorni e poi di tornare a casa. Perciò l'inizio del fuori casa non è stato particolarmente distruttivo per me. Il peggio, secondo me, è arrivato dopo, però ci arriviamo. Dopo qualche anno all'università in cui ho vissuto con dei coinquilini, ho passato un periodo da sola. Ecco, forse quello è stato l'inizio di una serie di problemi che poi si sono scatenati durante appunto la mia crescita e che sono, diciamo, arrivati come una valanga quando sono poi cresciuta e li ho trattati in terapia. La paura dell'andare a vivere da soli era strettamente collegata col fatto del perdere le amicizie, per me almeno. Quando io sono andata a vivere da sola, perché la mia coinquilina, che era anche una mia grande amica, aveva dovuto semplicemente cambiare scuola, quindi si era dovuta spostare rispetto a dove eravamo noi con la casa, perciò ne aveva presa un'altra, questo mi scatenava un sacco di ansia. Mi ricordo ancora che avevo circa 19 anni. Non lo so, la sera il fatto di tornare a casa e non avere nessuno con cui parlare mi metteva tantissima ansia, ma non tristezza, o meglio, non mi rendevo conto di essere una persona triste, che provasse quei sentimenti. Mi sentivo semplicemente che ero da sola e non avevo controllo su nulla. Dopo qualche anno, quando poi sono andata a vivere da sola per necessità, perché ho cambiato lavoro, ecco lì le cose hanno iniziato ad essere più chiare, anche perché di fronte a me avevo la realtà, cioè era una persona che andava a lavorare, studiavo anche, però in realtà avevo una vita, era diventata grande, tra virgolette, e quindi questo mi ha portato un pochino di problemi, sarò onesta, non l'ho vissuta benissimo. La mia esperienza del vivere fuori casa è partita da Torino, poi si è spostata su Milano, poi per un periodo sono stata fuori dal Piemonte, poi sono andata a Genova, poi sono tornata a Torino, insomma ho cambiato diversi posti. In realtà non sapevo semplicemente quale fosse casa mia, o meglio, non ero mai riuscita a costruirmela. Questa è una cosa che poi è tornata quando poi sono riuscita a comprare casa, e quindi mi sono sistemata, ho creato un posto che rappresentasse me stessa, ho rivisto tutto il mio percorso da fuori, e mi sono detta ma ci credo Clara che non sei stata bene in queste esperienze, perché tu stessa eri in balia dei luoghi che ti circondavano. Io sono una persona che crede fortemente nella disposizione delle energie legate alla disposizione dello spazio. Credo anche che, non lo so, forse le cose trasmettano delle energie, anche se sono cose inanimate, o meglio, io la penso così, poi non è detto che sia così, non voglio fare dei discorsi scientifici, questo è tutto metodo del Sagittario. Cioè, secondo me, se un posto mi dà delle buone energie, allora quello è un buon posto. Purtroppo io, a parte forse a Genova, dove in realtà quel posto mi ha trasmesso grandi cambiamenti, grandi volontà di mutare come essere umano, ma ne parliamo poi, in realtà tutti gli altri luoghi non li ho mai sentiti come casa, e questo sicuramente non ha aiutato per niente la situazione. Per un primo periodo mi sono sentita persa, perché non capivo letteralmente cosa stessi facendo. A parte il fatto che non ero abituata a gestirmi da sola, perché comunque quando abitavo con i miei genitori c'era qualcuno che si occupava delle faccende domestiche, che mi preparava da mangiare, non lo posso dire, perché mi preparavo sempre da mangiare io, infatti ho avuto un grande crollo anche a livello di alimentazione, ma arriviamo dopo a questo anche, e quindi non ci capivo niente, sono onesta, non ci capivo niente, non riuscivo a stare dietro alle cose, non riuscivo a organizzarmi, non riuscivo ad avere dei punti fermi. Per me era tutto un pasticcio, infatti per tantissimo tempo io ho vissuto per lavorare. Sinceramente non ho avuto nient'altro nella mia vita, non ho avuto grandi esperienze, che poi ovviamente nel corso degli anni mi sono rimproverata, perché avrei dovuto approfondire di più me stessa, invece che buttare me stessa verso qualcos'altro, che fosse lavoro o comunque degli obiettivi esterni a me. Sicuramente se avessi dedicato più tempo a chiedermi che persona fossi, che bisogno avessi, magari oggi avrei una mentalità un pochino diversa, o forse non avrei l'esperienza che ho oggi. Questo non possiamo saperlo, perché ormai il tempo è passato, di sicuro non si torna indietro. Mi andrebbe quindi di dividere la mia esperienza di andare a vivere da soli in due fasi. La prima è quella che ho vissuto con dei coinquilini, la seconda invece è semplicemente il mio vivere da sola, sola. Io ho deciso di accorparli tutti e due, perché secondo me andare a vivere con dei coinquilini non per forza ti garantisce l'essere in compagnia, infatti molto spesso magari uno va a vivere con qualcuno che poi non vede mai, o magari ha delle altre abitudini, non per forza bisogna essere amici. Lo consiglio però per il semplice fatto magari di creare una realtà che sia diversa da quella familiare, perché mi è capitato molto spesso poi di avere a che fare con persone che hanno sempre vissuto con la famiglia e poi hanno vissuto da sole, che sono molto rigide, sono persone molto impostate, che difficilmente si adeguano alle necessità degli altri, quando magari si è in viaggio, magari si devono fare delle attività insieme. Vivere anche con dei coinquilini può essere un'esperienza ovviamente sia positiva che negativa. Dovete prendere l'esperienza positiva come il fatto di mettersi alla prova, un po' come quando andavamo in campeggio d'estate. Io non volevo mai andarci ovviamente, non volevo mai andare in campeggio perché dovevo dividere la camera con gli altri e io assolutamente non volevo, da figlia unica quale sono, volevo la mia camera, perché per me era importante riposarmi, avere almeno uno spazio per me. Quando poi sono andata a vivere con dei coinquilini, questa cosa è mutata diciamo, perché sono riuscita comunque, anche se ero vicino ad altre persone, a ricrearmi degli spazi che fossero solo miei. Una cosa che probabilmente non avrei imparato se non avessi avuto a che fare con altre persone che non fossero i miei genitori in questo periodo di tempo. Proprio perché magari quando avete a che fare con dei coinquilini che non sono i vostri familiari, non avete proprio diciamo la faccia tosta di dire, di rispondere male o di fare delle cose strane. Quindi è ovvio che poi uno impara anche a sapersi gestire sia a livello personale, cioè quando io ho bisogno del mio spazio, e sia a livello sociale, cioè con le altre persone riuscite magari anche a mediare un po' di più quando dovete fare delle cose in gruppo. La seconda fase invece l'ho vissuta completamente da sola. La identificherei proprio solitudine totale quando sono andata a Genova, perché Genova è una città che io ho vissuto da subito, cioè sono stata catapultata nel giro di pochissimo tempo in una nuova realtà per motivi di lavoro e mi sono ritrovata completamente sola. Era la prima città che vivevo completamente lontana da casa, era circa, in teoria a un'ora e mezza da Mondovì, ma in pratica erano due ore e anche di più, perché c'era sempre coda, perché era difficile da raggiungere. Comunque se voi siete già stati a Genova sapete benissimo che l'autostrada non è come quella per andare a Torino, che è tendenzialmente dritta, è piena di curve. La Liguria, diciamo che a livello di strade è un pochino particolare, quindi mi era molto difficile tornare a casa spesso o comunque sapermi gestire il tempo vuoto, cioè quello dove non lavoravo, per dedicarlo alla mia famiglia. Perciò stavo molto spesso da sola. E lì è stato proprio, come dire, uno schiaffo in faccia a me stessa, perché forse per la prima volta mi sono dovuta chiedere come stessi. Mi ricordo questa immagine ferma nella mia mente di me che cammino per le strade di Genova che all'epoca quando mi sono trasferita non conoscevo minimamente, quindi non sapevo neanche che tipo di città fosse e mi pento di non averla esplorata, ma l'ho vissuta purtroppo in un momento della mia vita molto difficile. Non stavo bene, mi sentivo sola, non avevo amici, il mio fidanzato non mi ha assolutamente aiutato in quella circostanza, quindi diciamo che tutto l'insieme non ha fatto sì che mi dedicassi del tempo per me stessa per scoprire questa città, che poi si è riveliata anche molto bella. Ho questo ricordo nella mente di me che cammino con le auricolari e all'epoca ascoltavo tantissima musica indie italiana, molto molto deprimente, lo ammetto, ed è anche il motivo per il quale oggi io non riesco più di tanto ad ascoltare la musica indie perché mi trasmette forse le emozioni che io vivevo in quel periodo della mia vita e che difficilmente riesco a gestire in maniera ottimale ancora oggi. Quindi preferisco non affrontare quel momento e tenerlo ancora lì. Non è ancora arrivato il momento di affrontare quegli anni. Ecco, quella è stata la mia prima esperienza di solitudine totale e mi ricordo che io andavo a lavorare terrorizzata, non riuscivo a parlare con nessuno, tornavo a casa ed ero sola. Quello che facevo era buttarmi sul cibo. Questo per me è un argomento molto delicato che quindi non so se mi sento di raccontare in maniera totale, magari lo approfondiremo più avanti. Se vi interessa potete lasciare un commento qui sotto scrivendomi appunto che vi interessa come argomento e magari ci possiamo fare una puntata però per me non è sicuramente facile perché è un ambito che ancora oggi mi tocca particolarmente. Dicevo quindi che mi buttavo sul cibo perciò per me era l'unica valvola di sfogo da una parte e dall'altra l'unica cosa che mi desse delle soddisfazioni perché il lavoro all'epoca non me le dava. Io vivevo con molta ansia quello che dovevo andare a fare perché volevo raggiungere degli obiettivi ma io ero veramente concentrata sul lungo termine più che a fare un passo alla volta sbagliato quindi il cibo era l'unica cosa che mi dava soddisfazione. Mi ricordo proprio che io mi sedevo sul divano e dicevo adesso mi vado a comprare un pacchetto di gocciole e me lo mangio tutto. Non so spiegarvi il motivo cioè ad oggi io riesco a riconoscere questo mio momento di debolezza e riesco anche a capire anche se mi fa molta paura come fermarmi ma sicuramente all'epoca non avevo queste capacità non facevo terapia ero completamente allo sbaraglio e quindi ho vissuto dei momenti molto difficili veramente molto difficili in più un'altra cosa che mi sono resa conto di quando sono andata a vivere da sola è che mi mancava completamente l'organizzazione personale cioè il tempo come gestirlo quando andare a dormire quando fare una cosa quando fare l'altra io prima avevo delle abitudini che portavo a termine perché era una routine familiare quando poi mi sono ritrovata da sola mi sono sentita persa perché potevo letteralmente fare quello che volevo ma in realtà non sapevo bene che cosa volevo fare mi ritrovavo magari a dormire alle 6 di pomeriggio poi non riuscivo a dormire di notte poi dormivo prima poi mangiavo sregolata mangiavo magari alle 5 non so è stato brutto però diciamo che è come se in un contesto del genere quindi in un caos io avessi poi iniziato a prendere pian pianino delle bandierine e le avessi inserite nella mia routine quindi da lì poi mi è servito più avanti per costruire quello che in realtà io volevo essere nella vita e nella mia casa non so se è chiaro spero di sì crearsi le proprie abitudini penso che sia molto importante perché è la conseguenza della crescita quando una persona cresce e arriva al momento in cui si dice mi piace questo o quello secondo me è un goal perché lo ha scelto lei cioè non è stata un'abitudine familiare non è stata tua mamma o tuo papà che ti ha abituato a fare questa cosa può esserci anche quell'ambito lì però sicuramente è tutta una parte che tu vai poi a scoprire man mano che cresci e secondo me è una delle cose diciamo più affascinanti dell'andrà a vivere da soli del crearsi la propria vita la propria routine di fare le proprie scelte io ho ancora questa immagine che ogni tanto mi si ripresenta mia mamma mi ha sempre abituato a crescere con un certo tipo di rapporto sia con il cibo che con la cura di se stessi con il cibo io sono riuscita ad approfondirlo con degli specialisti quindi andando da un nutrizionista cercando di capire io mi sono informata ho letto un sacco di libri e ho cercato di venire incontro a me stessa cercando di capire cosa piacesse veramente a me non solo quello che era giusto e da lì ho trovato dei compromessi che ancora oggi però quando io ci penso dico però mia mamma mi aveva detto che non dovevo fare così io ancora oggi mentre cucino penso a questa cosa però poi mi dicono Clara vivi da sola fallo è strano la vita è tutto fatto a gradini alla fine poi si raggiungono l'importante è non perdere la curiosità di mettersi alla prova e di voler cercare di raggiungere quella meta quella consapevolezza in più bene io spero che questa puntata vi sia piaciuta io ho cercato di fare una panoramica generale della mia esperienza dell'andare a vivere da sola però se ci sono dei tratti del podcast che vi hanno colpito particolarmente potete scrivere un commento qui sotto e magari li approfondiamo con delle ulteriori puntate io cerco sempre di stare nei 13 minuti però mi rendo conto che ogni tanto sia difficile quindi ci sono delle puntate un pochino più lunghe io vi ringrazio per l'ascolto se siete arrivati fino a qui vi ricordo che mi trovate su tutti i social io sono sempre clarinthemirror e noi ci vediamo con un'altra puntata prestissimo qui su meglio di niente ciao ciao